Una residenza artistica si aggiunge al progetto Masterclass promosso dalla Camera di Commercio nell'ambito del Cremona Summer Festival. È il Cremona Music Camp al via con la prima edizione, che ha portato nella città del Torrazzo un gruppo di 60 elementi fra giovani strumentisti della Metropolitan Youth Orchestra of Hong Kong e accompagnatori provenienti dalla Cina. Grazie al supporto artistico della start-up culturale BMI Music, in questi giorni gli studenti si stanno perfezionando con stimati docenti delle principali istituzioni musicali della regione. Credo che questo tipo di attività siano veramente molto importanti sia per gli studenti che possono venire qua a Cremona che è un po' il fulcro della storia musicale, della liuteria, ma anche per Cremona è molto importante perché avere uno scambio tra giovani musicisti che vengono qui a suonare ma che sono anche turisti quindi che vivono la nostra città mentre sono qui è davvero una cosa che bisogna continuare a promuovere. Anche gli accompagnatori sono stati coinvolti con un laboratorio sul bel canto. Con il maestro Raúl Dominguez stanno preparando un laboratorio corale per avvicinarli sia al canto sia alla lingua italiana quindi stanno lavorando poi in particolare sulla marcia trionfale dell'Aida. L'esperienza cremonese della Metropolitan Youth Orchestra of Hong Kong confluirà nel concerto diretto dai maestri Antonio De Lorenzi e Raúl Dominguez in programma giovedì alle 21 in cortile Federico II aperto al pubblico con ingresso libero.